Sono Matteo D'Avenia, Team Manager della DAV Racing e adesso siamo qui in occasione della penultima gara di Monza. Per noi sarà sicuramente un evento molto importante perché è la gara di casa. In conseguenza avremo il supporto di tutti i nostri fan e dei nostri sponsor. Ci auguriamo di poter fare un ottimo weekend di gara anche perché quest'anno prenderemo parte all'evento con quattro macchine. Mi auguro che con tutti i piloti riusciremo ad ottenere degli ottimi risultati. Sicuramente ci sono tutti i presupposti. Adesso la concorrenza è sicuramente molto alta però daremo il nostro meglio per ottenere un ottimo risultato.